Salve a tutti, io sono Francesco Fusilo e oggi 23 febbraio 2017 con il mio amico Luigino abbiamo deciso di fare una bella video lezione sull'apparato respiratorio perché Luigino ha fatto una bellissima mappa concettuale, che programma hai usato? C-Map, fantastico, che classe fai? Seconda media, chiamo in seconda media e lui ha voluto sperimentarla con l'argomento di scienze dell'apparato respiratorio, l'ha fatta così bene che merita una video lezione Allora, cominciamo con questa esposizione, parliamo del percorso che fa l'aria Allora, l'aria cosa fa? Entra dal naso, passa dalla bocca, fa il percorso dalla faringe, laringe, terachea, bronchi, bronchioli e infine polmoni Ecco, l'aria finisce qui e in questo punto specifico, nella rete capillare alveolar l'ossigeno si scambia con l'anideride carbonica Fantastico, quella viene buttata fuori come dal tubo di scappamento, dalla respirazione e l'ossigeno passa al sangue che poi parta in tutte le vene e tutte le cellule e permette la combustione Quindi è un apparato molto importante Non si può vivere senza? No Bene, allora qual è la funzione dell'apparato respiratorio? Ha due funzioni, una è cedere l'anideride carbonica all'aria e la seconda è ricavare l'ossigeno dall'aria e trasportarlo in tutto il corpo, attraverso il sangue E da qua si vede benissimo, fantastico, bene, quindi è importante una capacità polmonare, avere i polmoni liberi che funzionano? Sì, la nostra capacità polmonare complessiva è di circa 5 litri Oh, ci picchia Allora qua vedo due tipi di respirazione, ce le spieghi gentilmente? Sì, una si chiama polmonare o esterna e avviene nell'apparato respiratorio e serve a interodurre ossigeno nel nostro corpo ed eliminare l'anideride carbonica L'altra invece si chiama cellulare o interna Quindi polmonare e cellulare Polmonare e cellulare Cellulare o interna avviene nelle cellule, avviene nei mitocondri che dal glucosio e ossigeno si ricava energia, come scarto si producono acqua e anideride carbonica Ah, ci picchia, che è il sangue che riporta i polmoni, i polmoni scambiano con l'aria che entra e le buttano fuori, quindi quando noi respiriamo esce l'anideride carbonica dalla nostra bocca Sì Perfetto, grazie Allora, sentiamo chi sono i motori della respirazione, perché i polmoni sarebbero fermi se non ci fosse qualcuno che li fa, ah, che li fa fare così E chi è che li fa, che tiene in moto la, la, la I muscoli intercostali e il diaframma Esatto, perché i polmoni sono dentro le costole, vero? Sono proprio dietro, prima chiedevo al nostro amico Giuseppe che è qui di fianco Cosa abbiamo sotto la maglietta, oltre la pelle? Vi ho detto le ossa, esatto, è giusto, ho detto perfetto, perché i polmoni non sono fuori, sono, come dire, contenuti da questa gabbia che si apre e si chiude e in questo modo fa l'effetto mantice e c'è la respirazione Fantastico Allora, qua vedo vie superiori e vie inferiori Allora, partiamo da quelle superiori che sono quelle che incontrano l'aria Ok, le vie superiori sono il naso, che è un rilievo in pari e mediano del viso La bocca, che è una cavità, che permette ad avere cibo di enterrare nel corpo Fantastico La faringe Ma si può respirare anche con la bocca senza naso? Sì Ma però uno è sfortunato se respirava con la bocca, vero? Perché nel naso è importante respirare con il naso? Sì Perché è importante? I peli del naso bloccano i batteri Fantastico, anche le polverine Sì, i batteri più grandi Sì, anche quelli che c'è una mucosa nel naso Sì A cosa serve quella roba lì? A bloccare i batteri Fantastico Polveri, i batteri Sì Adesso noi ne abbiamo anche tanta perché tanto che non piove e quindi ci dà fastidio E poi quelli che hanno il naso lungo come me, vanno meglio o vanno peggio? Meglio Perché così frena? Eh, io vado peggio perché ce l'ho un po' deviato Però avere un naso con tanti turbinati che l'aria viene filtrata e l'aria entra calda È importante, vero? Sì Può entrare fredda fredda nel nostro corpo? No Deve entrare umida e calda E calda E calda, bravissimo Quindi la bocca va bene per respirare con la bocca quando c'è necessità Meglio però respirare con il naso Quindi soffiarsi il naso, pulire il naso Esatto Andiamo avanti La faringe è il primo tratto del tubo digerente La laringe è un organo cavo destinato alla funazione e all'interno Stai dicendo che noi parliamo con l'aria Sì Cioè senza l'aria non parliamo? Esatto Perfetto Perfetto, esatto Proprio così Se noi respiriamo e parliamo praticamente Sì perché l'aria passando dalle corde vocali che sono piccole pieghe emettono il suono Fantastico Vibrano ed emettono il suono Regoliamo Regoliamo la vibrazione E così praticamente ognuno parla Ma anche canta Tutte le lingue del mondo sono aria che esce dalle corde vocali Scusa Dai polmoni che nelle corde vocali Vibrando come una chitarra Praticamente noi parliamo Dai parlaci adesso delle vie inferiori Le vie inferiori sono la tarachea Che mette in comunicazione la laringe Con la porzione iniziale dei bronchi I bronchi che si diramano in bronchioli Terminando in delle sacche chiamate alveoli polmonari Che sono questi qua che ho fatto vedere Sì Dove avviene lo scambio gassoso per diffusione Senti una domanda In classe nostra in questo periodo c'era quasi mezzi a casa Che avevano la famosa influenza Influenza, sì Dov'è l'infezione? Ce l'avevano più verso i bronchi O più verso la gola Più verso i bronchi Erano tutti quanti tossi Sì Avevano tosse Tosse forte Tosse Era infezionato qua Praticamente l'influenza che abbiamo preso qui nella zona di Verona Ha fatto tutti quanti tosse in questa zona E adesso stanno bene Sì Come abbiamo risolto Visto che erano Influenza Cosa gli erano dati i dottori? Gli antibiotici? Perfetto Bene Allora ringraziamo Liugino e Giuseppe che ci ha ascoltato con attenzione Ah dobbiamo dire anche delle pleura Giusto? Sì Cos'è la pleura? Sono delle membrane che rivestono i polmoni Sono due membrane La pleura interna e la pleura esterna Sono come insacchettati Sì Magistrale E Ben ascolto Come si dice Buon ascolto della nostra video lezione della classe seconda C Sì D D E buon ascolto